Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Rete Money, il programma dedicato al vostro patrimonio. Questa sera parliamo di pensioni e in particolare di previdenza complementare. Nella prima parte vedremo quanto è importante per Sanci per Tempo e cerchiamo di capire perché ancora tanti italiani non se ne preoccupano. Nella seconda vedremo cosa concretamente si può fare per evitare il rischio di ritrovarsi all'età della pensione con un assegno inferiore o molto inferiore all'ultimo reddito. Per parlare di previdenza complementare abbiamo ospite questa sera di Rete Money Marco Loconte, giornalista del Sole 24 Ore, uno dei colleghi più esperti di risparmio e di previdenza complementare che scrive sul Sole 24 Ore, su Plus, che è il supplemento del sabato che si occupa di finanze e di risparmio e anche l'autore di un blog che si chiama, non a caso, Oltre il TFR. Oltre il TFR, esatto. E proprio su questo blog, riprendendo un articolo che ha scritto negli ultimi giorni sul Sole 24 Ore, ha postato un commento che ha per titolo Previdenza complementare, vizi, rimpianti e costi. E mi sembra tre belle parole per cominciare a parlare di previdenza complementare. Sì, diciamo, sono i tre errori più ricorrenti che si fanno quando si parla di pensioni, perché forse è, diciamo, naturale, però è difficile avere visibilità su quello che ci potrà accadere da qui a 20 anni, da qui a 30 anni, soprattutto per chi è ancora giovane, riuscire a capire se e come risparmiare per la propria pensione non è facilissimo. Già bisogna arrivare alla decisione di risparmiare, capire quanto è importante farlo per tempo. E' quello il vero traguardo, arrivare a questa decisione non è semplice, però è necessario. E i numeri lo dicono, perché rinviare una decisione può costare molto caro. Significa andare incontro a un'indigenza sempre più certa. Man mano che si rinvia l'età dell'inizio del primo versamento previdenziale, e man mano che si decide di rinviare. Insomma, la procrastinazione è un vero pericolo per le nostre tasche. Non bisogna pensarci in ritardo, bisogna pensarci subito, fin da giovani, fin quando si inizia l'attività lavorativa. Vediamo perché, vediamo un po' queste parole, vizi, rimpianti e costi, che mi sembrano molto adatte a... Diciamo che recentemente è emerso in diversi sondaggi come gli italiani, più della metà degli italiani, si siano resi conto di essere un po' in ritardo nella costruzione del proprio cammino previdenziale. Perché ormai è chiaro che la pensione non è qualcosa che ci cade tra le mani quando smettiamo di lavorare, ma è qualcosa che dobbiamo costruire e dobbiamo imparare a costruire nel corso degli anni. Perché la pensione è un diritto, sì, sancito dalle leggi, dalla Costituzione, sotto molti aspetti, però se non lo costruiamo con un bricolaggio previdenziale idoneo, quando ci troveremo in pensione, secondo le regole del contributivo, secondo l'aspettativa di vita che aumenta nel corso degli anni, ebbene, veramente rischiamo grosso, rischiamo di trovarci con pochissimi soldi in mano e un'età in cui lavorare diventa molto difficile. Molta gente, lo ricordiamo, visto che appunto il TFR, quando c'è stata l'introduzione a previdenza complementare e la possibilità di scegliere, moltissimi lavoratori dipendenti avevano optato per lasciare il TFR, cioè l'accumulo della famosa identità di equilazione, presso l'azienda. Ora forse la situazione è un po' cambiata. È cambiata perché... È anche forse opportuno che cambi. È aumentata la quota di persone che hanno aderito alla previdenza complementare, questo sicuramente è un bene. Molti hanno deciso di aspettare, visto che si poteva decidere dopo. Vedo un po' come va gli altri, poi decido io. Ecco, questo quanto è costato ai singoli lavoratori, ai singoli risparmiatori? Beh, è costato, abbiamo provato a fare qualche simulazione insieme a coloro i quali si occupano di motori di calcolo su questi temi e ho visto che, insomma, i costi non sono indifferenti. Chi rinvia di 10 anni l'adesione a un fondo pensione va incontro a un tasso di sostituzione, ossia il rapporto tra ultimo stipendio e primo assegno pensionistico globale, quello che mette insieme il primo pilastro, quello obbligatorio, e la previdenza. Bene, 10 anni valgono il 6% di reddito pensionistico. Ecco, tu hai detto una parola chiave, tasso di sostituzione. Vuol dire che se uno, facendo delle previsioni che ora si possono fare, vedremo, ha un tasso di sostituzione, per esempio, del 50%, significa che la sua pensione sarà la metà dell'ultimo stipendio o dell'ultimo reddito. Per esempio. Quindi una differenza come quella che tu hai citato non è poco, perché poi ti accompagna per tutto il resto della tua vita. Significa invece del 50% il 44%. Se invece il rinvio è di 20 anni, invece del 50% si scende al 37%, 38% dell'ultimo stipendio. Vedete bene che chiaramente quanto diventa complicato, non dico sopravvivere, ma insomma veramente avere una vecchiaia dignitosa con una porzione pari quasi all'un terzo dell'ultimo stipendio. Quindi è necessario risparmiare il punto fondamentale. E poi vale per qualunque reddito, cioè per i redditi bassi, per cui la pensione è una forma, poi sarà l'unico reddito per mantenersi, ma anche per chi ha redditi molto più alti. Il tipo di ragionamento e di programmazione e pianificazione deve essere lo stesso. La pianificazione è la parola chiave. Dobbiamo pianificare il nostro futuro. Purtroppo siamo in questa fase di crisi economica che non ci lascia liberi. Siamo pressati ansiosamente sul nostro presente. Noi dobbiamo imparare a sfuggire a quest'ansia e ai vincoli che il presente ci pone, ci schiaccia sulla contingenza, costruendo, immaginando e costruendo un futuro per noi e per le nostre persone più vicine, evidentemente, perché la stabilità e la serenità finanziaria si trasmette poi in famiglia e alle altre persone che altrimenti dovrebbero venire in soccorso nostro. E quindi dobbiamo imparare a fare quel minimo di pianificazione che si mette. Poi sarebbe un ribaltamento perché fino ad oggi, con la pensione garantita, sicura, guardato il stipendio, è sempre accaduto che, soprattutto quando famiglie giovani, che i genitori in pensione aiutassero i figli. Tantissimi, oltre alla mia vita. Si potrebbe anche rischiare che a certi vedi di reto anche potesse succedere il contrario. Certo, ma proprio questa settimana un convegno a Firenze di Hauser è venuto fuori come oltre alla metà degli anziani, delle persone in pensione aiutino i propri figli o i propri nipoti perché sono le generazioni più povere, come evidenziato anche dalla Caritas. La povertà giovanile è un problema che ci sta tanagliando. Quindi ha maggior ragione preoccuparsi di avere una pensione adeguata o, se possibile, ricca. Assolutamente. È fondamentale. Che ci consenta di essere sereni. La ricchezza ognuno la stabilisce a seconda delle proprie esigenze, del proprio cuore, delle proprie necessità. Si può essere felici con pochi euro e tristi con tantissimi. Il punto è essere sereni per sé e per i propri figli. La battuta è una battuta, se vogliamo, però un tempo si diceva che una pensione complementare, un fondo pensione, ci consentiva una rendita integrativa per avere qualcosina in più, per avere qualche disponibilità in più da usare in pensione. Sì, per aumentare il livello del reddito, un periodo in cui si poteva anche goderselo. Oggi la situazione è molto cambiata. Se io aderisco a un fondo pensione, lo faccio per me, per il mio reddito futuro, ma anche per evitare di essere a carico dei miei figli quando smetterò di lavorare, i quali rischiano, altrimenti, di trovarsi un padre sfaccendato in età anziana da mantenere perché il suo reddito non sarà adeguato. Questo è più di una battuta, è uno scenario a cui dobbiamo fare i conti. Adesso i giovani che entriano al mondo del lavoro non hanno questa percezione e corrono il rischio di ritrovarsi con questo tasso di istituzione veramente vicino al 50% o in qualche caso più inferiore. È difficile avere visibilità su quello che ci accadrà, soprattutto se abbiamo appena iniziato a lavorare, i contratti non sono stabili, c'è grossa incertezza sul proprio futuro. Proprio per questo la cultura finanziaria, la cultura della gestione dei portafogli che nei decenni ha cercato di ottimizzare le scelte, ci dice una cosa importante, ossia quella che è la scelta prioritaria da fare. Nel momento in cui abbiamo un euro da parte, cosa ne facciamo? Che riusciamo a risparmiare solo un euro? Bene, dobbiamo considerare l'opportunità principale, quella di mettere al sicuro la nostra pensione, cioè il futuro di lungo termine. Se gli euro diventano due, dobbiamo considerare i rischi attuali, quelli di copertura assicurativa. Se abbiamo un terzo euro da mettere da parte, allora possiamo considerare il risparmio, in fondi comuni, in altri strumenti, diciamo così, più di breve o medio periodo. Però a lungo termine la nostra stabilità e serenità futura è quella che ci consente anche di vivere meglio il nostro presente. I numeri ci dicono che gli italiani hanno fatto fatica e stanno ancora facendo fatica. A risparmiare. Non tanto a risparmiare quanto a preoccuparsi, soprattutto i giovani, di quando andano in pensione. Perché come dicevi all'inizio, pensare a quello che accadrà fra 20-30 anni e lontano dalla mentalità di chi entra, magari con entusiasmo nel mondo del lavoro, comincia a guadagnare e così via. Cosa vogliamo dire a questi giovani e meno giovani? Direi che gli italiani sono dei maleducati, ma nel senso che... Il termine in effetti è un po' spiacevole, ma prende le mosse dall'educazione finanziaria, che anche questo è un termine che personalmente non amo molto. Potremmo dire ineducati, ma in qualche caso hai ragione, forse maleducati. Allora, il punto è che non abbiamo una sufficiente competenza in materia di gestione del denaro. Usiamo il termine alfabetizzazione finanziaria. Così come esiste l'educazione alimentare che ci consente di mangiare bene e di stare bene dal punto di vista della salute, dobbiamo imparare meglio e sempre di più a gestire meglio il nostro denaro per vivere meglio, per fare in modo che il denaro lavori per noi e non viceversa. Pertanto, insomma, tutti i confronti internazionali vedono l'Italia agli ultimi posti tra i paesi industrializzati, agli ultimi posti europei molto distanti da Germania, da Francia, insomma dagli altri paesi... Stiamo parlando sempre di cultura, di formazione finanziaria. L'alfabetizzazione finanziaria. L'ultima ricerca di fine 2019 dell'Ocse ci vede al 63esimo posto. Solo un terzo degli italiani conoscono i meccanismi di base del denaro, della gestione del denaro, cioè inflazione, diversificazione dei portafogli, il calcolo dei rendimenti, minimo di matematica che ci consente di sapere che lo 0,4% corrisponde al 4 per mille. E anche per dialogare con un po' di connessione di causa con i consulenti, perché direi che in questa situazione di maleducazione o di ineducazione finanziaria il ruolo di un consulente serio diventa fondamentale. È fondamentale la consuetudine con la materia. Poi io sono un giornalista e quindi il mio business è vendere informazioni, passatemi questo termine. La consuetudine con le informazioni fa molto. Una trasmissione come questa ci aiuta ad avere consapevolezza della materia e quindi quando una cosa la fai una volta all'anno, come il 7,30, allora fai fatica ad avere grande dimestichezza con la materia, così come la scelta di un mutuo. Invece se periodicamente abbiamo consuetudine con un tema, con le scelte possibili… Diciamo che quando si ragiona di finanza e di finanza personale, se si è un individuo o familiare, è assolutamente fondamentale considerare anche la previdenza. Questo è un qualche cosa che anche chi dà consigli sui risparmi sta cominciando a introdurre nei suoi ragionamenti sulla vita di un individuo o una famiglia in prospettiva. Sì, perché nei decenni passati l'Inps ci ha abituato a dare tanto alle generazioni precedenti, a quelli che sono ora in pensione, che sanno benissimo che… La liquidazione è automatica e la pensione è automatica. Una volta se andavi in pensione con l'ultimo… È cambiato tutto e ora la busta arancione… Ci dice cose molto diverse rispetto a quelle passate. Ma se dovessimo sintetizzare in un consiglio o due che dal tuo osservatorio, diciamo il giornalista che si occupa, e che è anche un dialogo con i cittadini, con gli investitori, con gli spalmiatori, se voressimo dare un consiglio ai tre spettatori che non pensano abbastanza alla loro pensione futura? Sicuramente informarsi, cercare di capire, chiedere, domandare a un consulente, sicuramente è un'opzione importante, fare tante domande, tempestare di domande per capire, perché i soldi, dentro i soldi c'è il destino di una persona e il suo progetto di vita anche, quindi è importante compiere delle scelte consapevoli, quindi parlare con un gestore, confrontare evidentemente diverse opzioni e scegliere quella che è più idonea alle proprie esigenze. Un progetto di vita sicuramente c'è un assegno pensionistico adeguato, pianificato e sicuro. Che ci faccia vivere tranquilli e sereni e fare in modo, come dicevo, che il denaro lavori per noi e non viceversa. Grazie, su questo consiglio è assolutamente importante. Ringraziamo Marco Loconte, social media editor del Sol 24 Ore, anche giornalista esperto di risparmio e di previdenza. Grazie Marco e a presto ancora qui, ospite a Rete Mori. Molto volentieri. E con i nostri spettatori ci vediamo tra pochissimo. Per approfondire concretamente i temi della previdenza complementare abbiamo con noi a Rete Money questa sera l'autoressa Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni. Buonasera, dottoressa Ghinfanti. Buonasera. Buonasera. Alleanza Assicurazioni è uno dei protagonisti del mercato della previdenza complementare in Italia. Se vogliamo dare qualche numero per far capire quanti clienti avete e quanto vi occupate di previdenza. Sì, volentieri. Allora, Alleanza Assicurazioni ha poco meno di 2 milioni di clienti. In termini di previdenza complementare abbiamo circa il 15% di quota di mercato sui piani individuali pensionistici. Sui piani individuali pensionistici ci sono quelle forme di previdenza complementare, appunto individuali, fatti attraverso una compagnia di assicurazione. Di assicurazione, esattamente. Peraltro siamo cresciuti di 2 punti percentuali negli ultimi 5 anni. Ad oggi circa 400 mila italiani ci hanno scelto per l'acquisto di una soluzione previdenziale e solo nei primi 7-8 mesi dell'anno siamo cresciuti di 40 mila ulteriori clienti sul tema proprio previdenziale. Quindi, insomma, sicuramente una rete assicurativa di riferimento sul tema della previdenza. E' uno dei player principali del mercato, da questo punto di vista. Ecco, è mercato nel quale è arrivata come anche uno stimolo e un'occasione per preoccuparsi di qualche cosa che nella testa di molti italiani, soprattutto giovani, non ancora entrata, la famosa busta arancione dell'Inps. Cioè, un documento nel quale l'Istituto di Previdenza, per chi è iscritto all'Inps, dà al lavoratore dipendente un quadro della sua situazione previdenziale in prospettiva, calcolando, ipotizzando, quale potrà essere la sua pensione quando arriverà all'età del pensionamento. E questo, per tutti coloro che si occupano di Previdenza Complementare, in particolare per le compagnie di assicurazione, è stata un'occasione per, diciamo, dialogare con il pubblico, con i clienti, di Previdenza Complementare. E' così? Sì, decisamente è stata una grande opportunità per l'Allianza Assicurazioni, che si è proprio agganciata a questa iniziativa dell'Inps, della busta arancione, per poter offrire un servizio, un'assistenza ai propri clienti, quindi ai propri clienti in portafoglio, offrendo appunto un servizio di assistenza per aprire e leggere insieme i dati della busta arancione e interpretare sostanzialmente i dati per capire poi quale sia l'età pensionabile, quale sia l'ammontare dell'assegno pensionistico, eccetera. D'altro canto anche rivolgersi a tutto il mercato, a tutti i cittadini italiani, per offrire questo tipo di assistenza gratuita, naturalmente, con una serie di micro eventi sul territorio, ne abbiamo fatti già ad oggi, da inizio dell'anno, circa 150 e ne abbiamo in piano un altro centinaio da qui a fine anno, dove proprio offriamo presso i nostri infopoint la possibilità di avere tutte le informazioni e poi eventualmente di prendere chiaramente anche degli appuntamenti per una consulenza privata, ripeto, gratuita, a disposizione di tutti. Però mi sta dicendo che chiunque voglia approfondire i temi o farsi aiutare già a busta arancione, gratuitamente, senza impegno, può rivolgersi ad Alleanza e avere questo tipo di informazioni di consulenza. Esattamente, esattamente anche perché parliamo di una rete composta da 15.000 consulenti assicurativi sul mercato, siamo estremamente capillari, quindi siamo veramente in tutte le province dell'Italia. Approfitto però per dirle, per dare anche un'informazione in più, che secondo me può essere utile per chiarire un po' il contesto della busta arancione, perché oggi c'è parzialmente una disinformazione, nel senso che le persone hanno colto, con il bataggio di comunicazione importante che è stato fatto su questa iniziativa da parte dell'Inps, hanno colto di dover aspettare a casa la busta arancione. In realtà l'Inps sta spedendo le buste arancioni ai circa 7 milioni di italiani non digitalizzati, mentre ci sono gli altri 11 milioni di italiani lavoratori che però sono digitalizzati, che anziché aspettare dovrebbero farsi parte attiva e quindi dovrebbero in maniera proattiva accedere al sito di Inps, entrare e recuperare tutto questo tipo di dati. Chi usa internet, deve fare da sé collegandosi al sito di Inps per avere le stesse informazioni che gli altri 7 milioni che lei ha citato ricevono a casa della famosa busta arancione. Esattamente. Ma il discorso è uguale per gli uni e per gli altri. Però è qui che ci è venuto anche, una delle motivazioni per cui ci siamo attivati su questo fronte è che non tutti gli italiani hanno, non so, questa proattività nel andare sul sito, recuperare dati e quindi acquisire consapevolezza su un tema così chiave. Bisogna ricordarglielo e bisogna anche supportarle in tutto il processo, nel recupero delle informazioni, nella lettura e poi nell'interpretazione dei dati, anche perché sul sito Inps si possono fare anche delle simulazioni, per esempio simulare la rivalutazione dell'assegno pensionistico sulla base dell'andamento del PIL e quindi serve una competenza quantomeno di base sul tema previdenziale che non tutti hanno. Quindi i vostri consulenti assicurativi vanno nelle case e dei clienti che vogliono saperne di più e aprono con loro la busta arancione oppure si collegano e guardano insieme i dati. Ecco, noi, Drettemoni, ne abbiamo seguito uno dei vostri consulenti, siamo andati a vedere cosa succede quando un consulente assicurativo si siede in una famiglia e si mette, partendo da busta arancione, a parlare di previdenza complementare. Vediamo il contributo. Buonasera Andrea, prego. Buonasera, molto piacere. Prego, si accomodi pure. Permesso. Buonasera Andrea. Buonasera. Come viene calcolata la mia pensione? Francamente la cosa che mi ha allarmato abbastanza è che l'età pensionistica di mio marito è slittata molto avanti. La pensione dei vecchiai è stata spostata in 67 anni, poi chiaramente ci saranno alcune finestre che consentiranno l'uscita anticipata. Per quanto riguarda l'importo e l'assegno pensionistico, mi incidono due fattori fondamentalmente, il PIL, quindi il prodotto interno lordo, e quanto crescerà e quanto velocemente crescerà il tuo reddito, perché chiaramente con il sistema contributivo contano i contributi versati e non tanto gli ultimi redditi. Come vedi, in questa schermata è sintetizzata un po' tutta la sua situazione previdenziale. Quindi, quello che andiamo a vedere, l'aspettativa di pensione pubblica stimata, è vero che è di 46.000 euro, quindi più alta rispetto al suo reddito attuale, ma per il futuro corrisponderà a un 32% di scopertura. Quindi l'Inps mi copierà solo fino al 68%. Bisognerà poi capire, in base a quello che è la sua attività lavorativa e a quelle che sono le sue entrate e le sue uscite dal punto di vista economico, cosa possiamo fare e qual è chiaramente il modo migliore per poter andare a colmare questa scopertura. Cosa posso fare? Cosa mi consiglia di fare? Il nostro obiettivo non è tanto quello di arrivare al 100%, ma simulare il suo status quo, quindi andare a ricreare il suo status quo attuale. Possiamo sfruttare il fattore tempo, quindi lei non ha nemmeno 40 anni in questo momento, quindi avrà ancora diversi anni e parecchi anni per potersi tutelare per il primo discorso futuro. Fortuna vuole che anche dal punto di vista di entrate e uscite abbiamo comunque un margine che ci consente e che dovrebbe essere sufficiente, sfruttando anche il suo trattamento di fine rapporto come dipendente, per potersi tutelare fino in fondo. L'importante è capire qual è il suo obiettivo, andare quanto prima possibile in pensione oppure avere una copertura pensionistica più alta. Mi piacerebbe salvaguardare il mio tenore di vita una volta andato in pensione. Per esempio lei, essendo dipendente, può utilizzare il suo trattamento di fine rapporto, quindi il TFR. Non ci avevo pensato, mi sembra un'ottima idea, ma come si può fare? Diciamo che tramite il modello ministeriale si può destinare il suo trattamento di fine rapporto presso una forma di previdenza complementare. Lo Stato l'agevola fiscalmente in quanto non le farà pagare a scadenza l'aliquota IRPEF, quindi dal 23 al 43% rispetto all'accumulo del trattamento di fine rapporto, ma l'agevolerà in base all'età con l'aliquota più leggera che parte dal 15% e scende fino al 9%. Ma è sufficiente il TFR? Tendenzialmente no, sarebbe consigliabile un versamento volontario che per di più lo Stato agevola ponendo la deducibilità fino a 5.164 euro all'anno. Ecco, nel filmato abbiamo visto che il vostro consulente si limita a dare informazioni, spiegazioni, eccetera, ma non si vede nessuna proposta concreta, nessuna offerta di soluzione per la situazione pensionistica che abbiamo visto. Io non credo che andate lì soltanto a dare spiegazioni senza proporgli un piano alleanza. No, allora, se la domanda che mi fai è se facciamo bene efficienza, la risposta è no. Eh no, però c'è da dire che io credo che prima di arrivare a una soluzione pensionistica da offrire a un cliente è importante lo step iniziale, che è proprio quello di sensibilizzarlo sul tema, di fornirgli tutte le informazioni e di renderlo consapevole. E quindi questo tipo di assistenza e di supporto e quindi di consulenza credo che sia fondamentale per creare, e mi riferisco anche a quello che diceva Loconte nell'intervento prima di me, per creare questa alfabetizzazione previdenziale almeno di base che purtroppo in Italia manca e quindi imparare quello che c'è da imparare, insomma, educare in qualche modo in questo ambito. Poi nel momento in cui il cliente sarà consapevole, avrà compreso quello che è il cosiddetto gap previdenziale e quindi appunto la differenza tra quello che... Esatto, la differenza tra quello che andrà a prendere di pensione e quello che presumibilmente sarà il suo ultimo stipendio e il suo ultimo reddito. Abbiamo visto che questo sbilancio, questa differenza può anche essere rilevante, può anche arrivare al 50%, soprattutto per i giovani che cominciano adesso ad accumulare... Esattamente, quindi nella misura in cui si hanno poi questo tipo di informazioni e quindi si prende consapevolezza del gap previdenziale, dicevamo, a quel punto si possono scegliere delle soluzioni ed è evidente che il consulente alleanza offre le soluzioni disponibili in quel caso in modo che la persona interessata possa scegliere. Però c'è un lavoro preparatorio importante. I vostri due milioni di clienti che voi visitate regolarmente vi abbiamo dato, lei si occupa di marketing, la misura della non consapevolezza o dei problemi o dell'esigenza o dei timori e su questo probabilmente avete costruito anche la vostra campagna di alfabetizzazione e anche di servizio gratuito alla popolazione. Infatti le confesso che... Un ruolo anche sociale. Infatti le confesso che da un lato abbiamo avuto proprio spunto di questo tipo di iniziativa, stimolo e spunto dai nostri stessi clienti che hanno cominciato a chiamarci nei mesi precedenti, soprattutto ai primi mesi dell'anno, per chiederci informazioni sulla busta arancione, cosa si dovevano aspettare, ma di che si trattava e cosa bisognava fare. Perché questo era un po' il tema. Allora da qui c'è nato un po' lo spunto di lanciare questa campagna che potesse appunto supportare in qualche modo l'iniziativa dell'Inps. D'altro canto, sì, le confermo che ci siamo anche un po' sentiti una responsabilità e quindi anche un po' un ruolo sociale da questo punto di vista di supportare gli italiani nel capirci di più sul tema previdenziale, della previdenza complementare perché vantiamo 15.000 consulenti assicurativi sul territorio che sono tra i più esperti e preparati in Italia. E quindi in qualche modo abbiamo messo questo importante asset, questo patrimonio umano di cui disponiamo a disposizione anche dei cittadini. Anche perché la busta arancione ha scosso abbastanza i pensieri ed è stato preoccupazioni. Ma se a questo punto, diciamo anche in considerazione di tutto quello che abbiamo detto, volessimo come abbiamo fatto nella prima parte, come abbiamo avuto ospite il giornalista esperto Marco Loconte, dare un consiglio ai nostri telespettatori di ogni ordine grado, come si dice, cioè di qualunque situazione personale, finanziaria, patrimoniale. Cosa gli possiamo dire? Sì, ma allora non posso che agganciarmi per certi versi a quello che ha detto Loconte e cioè che il primo consiglio è informarsi a tutti i costi. Sottoscrivo. Esatto. Dopodiché la cosa che aggiungo però è iniziare presto perché appunto iniziare a 50 anni a preoccuparsi della previdenza è tardi. Abbiamo visto che ogni anno di ritardo comporta meno pensione alla fine. Infatti effetti negativi ai fini appunto della previdenza. Iniziare prestissimo, che può significare, noi abbiamo anche dei clienti che addirittura genitori o nonni che cominciano a fare dei ragionamenti previdenziali per il futuro dei figli o nipoti. Quindi diciamo si possono accumulare risparmio per la previdenza integrativa anche da bambini, se che possono farlo i genitori o i nonni a favore di quelli che domani saranno maggiorenni e lavoratori. Esattamente, quindi informarsi il più possibile, iniziare presto e scegliere un consulente alleanza, questo ve lo deve concedere, un consulente alleanza sul territorio che è tra i più esperti in assoluto del mercato. Bene, quindi documentatevi, informatevi, pensateci presto. E su questo consiglio ringraziamo Claudio Ginfante, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni, augurandoci di averla ancora ospite qui a Retemoni. E con i nostri telespettatori l'appuntamento è fra una settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.